www.canale58.com la tv sul web notizie video rubriche diretta streaming scarica l'app di canale 58 per tablet smartphone iphone buonasera puntuale la trasmissione politica e sviluppo negli studi di canale 58 c'è il segretario della CISL il Pignasagno Mario Melchionna buonasera allora segretario è deveroso cominciare a discutere della vicenda emersa dal servizio di striscia la notizia riguardo i falsi diplomi questione che ha assunto anche una rilevanza nazionale avete fatto chiarezza al vostro interno? ma noi in verità più che chiarezza abbiamo attivato tutte le procedure previste dal nostro regolamento e dal nostro statuto e poi abbiamo la categoria la CISL che è direttamente interessata ha esposto una querela immediatamente il giorno successivo a quanto striscia l'analizia ha fatto emergere questo problema direttamente una denuncia presentata alla procura della repubblica sono avviate l'indagine per fare chiarezza non solo al nostro interno che è già stata fatta con la sospensione immediata del collaboratore l'attivazione di tutte le procedure previste dallo statuto ma ci dovrà essere una giustizia esterna quindi la procura e la magistratura che dovrà stabilire insomma chi ha leso l'immagine della nostra organizzazione lei conosceva personalmente questo collaboratore come mai nessuno se ne era accorto prima? sì io conoscevo questo collaboratore come mai nessuno se ne era accorto sinceramente non lo so perché sono così tante le persone che vengono presso un'organizzazione sindacale poi c'è anche una questione di privacy perché quando una persona va da un dirigente sindacale da un collaboratore per avere contezza per avere assistenza su una pratica c'è anche un fatto di privacy non è che ci puoi mettere il carabiniere a fianco a vedere che cosa sta succedendo quindi io credo che è veramente molto complicato riuscire a seguire i tantissimi direi centinaia di collaboratori che abbiamo sul territorio quanto vi ha danneggiato questa vicenda? io credo che più che danneggiato insomma ha creato un imbarazzo a un'organizzazione sindacale che non è solo le domande del personale ATA quello è un pezzo del lavoro che questa organizzazione fa noi siamo un'organizzazione che dà tantissima assistenza, servizi, previdenziali, fiscali, tutela contrattuale insomma come dire la faccia dei dirigenti, del Sietario Gila ma di tutti i dirigenti di questa organizzazione ogni giorno sono su tutte le vertenze presenti sul territorio quindi diciamo che da questo punto di vista è dispiaciuto molto perché un episodio possa in qualche modo mettere in difficoltà l'organizzazione sono contento perché questo non è accaduto nonostante ce ne fossero tutte le condizioni perché la gente sa benissimo chi è l'organizzazione, chi è la Cisle, chi sono i dirigenti di questa organizzazione e quindi tutto sommato voglio dire l'organizzazione ne è uscita ne sta uscendo bene perché abbiamo come dire la stima di tantissimi iscritti a questa organizzazione sindacale Quindi state raccogliendo anche solidarietà da parte dei vostri iscritti oppure dalla gente che trovate in giro? Sì sì tantissima, gli iscritti, comuni cittadini, rappresentanti istituzionali insomma stima e fiducia nei nostri confronti perché voglio dire non è un episodio una mela marcia che può invangare il lavoro fatto tanti e tanti anni con tanta serietà e onestà Va bene, allora attendiamo i risvolti giudiziari che saranno avviati dalla procura Lei prende spesso parte ai tavoli per lo sviluppo del territorio in qualità di parte sociale la crisi a quanto pare si allenta un poco ma l'Erpini è ancora morsa da questa crisi? Sì, la crisi diciamo che sono stati 8 anni, 9 anni terribili di crisi dove il nostro territorio è stato colpito veramente in maniera molto molto dura e significativa Oggi i segnali che si registrano ma sono di carattere nazionale soprattutto perché al sud nonostante la regione Campania è una delle regioni più attive all'interno del Mezzogiorno d'Italia sia in termini di crescita, di pille che di fondi che si riescono a spendere ma nonostante tutto ancora non è toccata con mani la ripresa perché la ripresa vera è quando noi vediamo le aziende che riaprono completamente che richiamano tutti i lavoratori a lavorare e che c'è occupazione aggiuntiva è questo che manca al momento, piccoli segnali con assunzioni a tempo determinato assunzioni stagionali ma noi vogliamo un lavoro vero, lavoro serio, duraturo a tempo indeterminato per i nostri giovani e per i meno giovani e fin quando non ci sarà questo io credo che noi dobbiamo ancora lavorare molto molto sodo per portare l'Erpini fuori dalle difficoltà e anche il sannio chiaramente Qual è il termometro per capire che la situazione è ancora in crisi? Sicuramente sono le ore di utilizzo per la cassa integrazione, per i contratti di solidarietà e il numero di iscritti ai centri per l'impiego che purtroppo ancora non calano nonostante voglio dire ci sta qualche piccolo segnale noi fin quando leggeremo numeri come 80.000 e oltre di iscritti al centro per l'impiego in cerca di occupazione, fin quando registriamo centinaia di ore di cassa integrazione che vengono utilizzati, contratti di solidarietà nelle aziende per evitare licenziamenti per quanto ci guanno non possiamo parlare di ripresa vera perché questi segnali purtroppo dimostrano il contrario Veniamo alla Valle Ufida, all'industria italiana autobus non le sembra una fabbrica che si accontenta di piccole commesse visto che molti reparti aziendali sono ancora chiusi faccio riferimento alla Cataforesi Ma io non credo che l'azienda che si accontenta di piccole cose che purtroppo le gare che vengono fatte per la giudicazione per costruire gli autobus pongono dei vincoli che escludono automaticamente l'industria italiana autobus perché il problema è proprio lì se all'interno di una gara d'appalto per partecipare sono richiesti alcuni requisiti che questa azienda non ha però vi ragione perché è nata da qualche anno non ha come dire quell'esperienza e quel curriculum tale che viene richiesto purtroppo in alcune gare d'appalto è chiaro che l'azienda però dove partecipa l'azienda vince ecco questa è la cosa importante quindi è un'azienda che ha voglia di fare dove ha scommesso in Valle Ufida dove ci crede gli imprenditori ci credono i lavoratori io credo che le istituzioni devono in qualche modo agevolare questo percorso attenzione io non sto dicendo che bisogna privilegiare però mettere nella condizione questa azienda di poter gareggiare pari alle altre aziende altrimenti su alcune gare specifiche questa azienda verrà esclusa a priori e non mi sembra corretto crede sulla capacità che può avere l'infrastruttura dell'alta capacità appunto a Napoli Bar e quindi riabilitare in tutto l'Irpinia il Mezzogiorno e la Valle Ufida? io sono convinto di questa cosa e ho sempre sostenuto la validità di questo progetto perché il completamento di alcune infrastrutture viari come la Leone Grotta Minarda l'ha il potenziamento della Napoli Bari alta capacità, alta velocità che attraversa il territorio Sanita fino all'Irpinia con la stazione in Valle Ufida dove ci sarà la piattaforma logistica si lavorerà il freddo e la stazione che servirà per rilanciare non solo la Valle Ufida ma qui parliamo dell'intero sud perché geograficamente la Valle Ufida ha una posizione strategica per l'intero sud io credo che bisogna puntare su questo e accelerare i tempi perché quello che sto notando in questo momento è che dopo le varie conferenze dei servizi dopo le delibere dei comuni pare che la cosa sta di nuovo rallentando e questo non va bene perché l'impegno era nel 2018 l'apertura dei primi cantieri nel 2026 il primo treno che passa per il Sagno e per l'Irpinia io spero che questi tempi vengano rispettati però c'è bisogno di snellire un po' la burocrazia Senta, che fine ha fatto la piattaforma logistica? Lei ha più volte insistito su questo progetto infrastrutturale in modo tale da creare questo carico e scarico delle merci? La piattaforma logistica così come fu intesa al tavolo della provincia con il patto per lo sviluppo l'ASI fu delegato a progettare questa prima fase l'ASI so che ha fatto uno studio anche una bozza di progetto quando mi riferivo alle lungaggini burocratiche mi riferivo anche a questo c'è una prima bozza un primo progetto e su questo bisogna dare continuità bisogna farlo insieme all'ASI bisogna farlo con Ferrovia Italiana la regione Campania tutti quelli che sono deputati a definire un progetto vero che possa essere poi realizzato nel più breve tempo possibile La Leone Condursi Grotta Minarda sta proseguendo per quanto riguarda la sua realizzazione però ci sono molte aree ASI lei me l'ha accennato poco fa io dico che secondo uno studio sono prive di banda larga sono prive di servizi parliamo di autostrade ma le autostrade 3.0, 2.0 e chi le fa? il rischio è che mentre si completa un'opera strategica che è iniziata oltre 20 anni fa diventa automaticamente obsoleta perché il mondo va avanti è questo che non si riesce a capire in questo paese allora la banda larga, ultra larga sono cose che da noi se ne discute in altre realtà sono realtà da una vita ecco allora le aree ASI non possono competere con altre aree industriali del paese parliamo del centro-norte anche per questo i servizi, le infrastrutture che non ci sono le infrastrutture anche immateriali come la banda ultra larga e la fibra ecco sono tutte cose che in qualche modo mettono fuori gioco la competizione delle nostre aziende che ricadono in queste aree ASI ci sono tantissimi progetti presentati dalle aziende e degli stessi consorzi ASI che restano fermi e che non vengono finanziati ecco questo è il vero problema quale industria 4.0 se noi non riusciamo a completare le cose terra terra basilari quello che servono per far sopravvivere un'area industriale le aziende, i servizi e una comunità intera questo è il vero problema purtroppo è la lentezza delle cose da quando si pensa una cosa a quando si realizza passa troppo tempo e questo è un danno per noi del sud crea un gap ovviamente esagerato servizi ai cittadini prima abbiamo parlato di servizi alle imprese ora il servizio al cittadino molti irpini si trovano a vivere la problematica della razionalizzazione dell'acqua è di questi giorni è assodato che ovviamente scarseggi questo bene ma non le sembra che tutta la classe dirigente si sia fatta trovare impreparata di fronte a questo problema che era annunciato ampiamente la siccità, la AFA, il caldo e via di seguito cioè non crede che la politica debba essere bocciata a vari livelli paradossalmente l'acqua non scasseggia sono le reti idriche che disperdono oltre il 65% dell'acqua questo è il paradosso noi non abbiamo un problema di acqua che è diminuita dalle sorgenti l'acqua viene captata fino a quando arriva a destinazione il 65% viene disperso nel sottosuolo perché le reti sono un collaborato sono faticenti questo è il vero problema se si interviene sulle reti cosa che diciamo da anni e tutti sanno che bisogna intervenire sulle reti significa che non si disperderà l'acqua e quindi non avremo più il problema dell'acqua che manca è così semplice che la capisce anche un bambino di scuola elementare il problema è che la politica le istituzioni non vogliono intervenire su questa questione questo è il vero problema oggi si cercano si arrambica sugli specchi per trovare soluzioni che sono di una semplicità unica al mondo ci sono tantissimi fondi europei che possono essere spesi su un grande progetto per le acque sulla depurazione sulle reti idriche e tanto altro questi fondi restano nei cassetti della regione Campania e della comunità europea perché noi non riusciamo a spenderli e poi ogni giorno dobbiamo assistere a cittadini che giustamente si lamentano perché l'acqua non c'è e voglio dire alla fine tutta la discussione si chiude con un solo ragionamento l'alto calore è fallito l'alto calore non serve c'è un esubero di personale è una cosa vergognosa e ridicola è la politica che ha fallito l'alto calore non ha fallito il personale i lavoratori lavorano dalla mattina alla sera con serietà è la politica che ha fallito perché l'alto calore l'ho sempre detto e lo voglio ribadire è servito Sussi se ne interrompo l'ha detto anche di recente un incontro in prefettura certo di recente tra qualche giorno abbiamo un'assemblea di nuovo con i lavoratori per decidere cosa fare se proclamare uno sciopero generale se decidere di andare a protestare sotto il palazzo della regione Campania perché qui ci sono in gioco una serie di cose che purtroppo appare sempre la cosa meno importante che è quella di dire che c'è un esubero di personale non è vero nell'alto calore ne approfitto chiedo scusa perché questa è una cosa importantissima è uno dei temi che stiamo affrontando con tanto impegno l'alto calore ha 330 dipendenti circa gran parte di questi sono amministrativi chiaro si capisce che bisogna fare nuovi lavori in quell'azienda non servono tantissimi amministrativi ma servono più persone preposte a fare attività di tecnica di sopralluogo di riparazioni di interventi alla stella allora bisogna più che di esubri bisogna ridistribuire il personale che è un patrimonio importantissimo per l'alto calore ma purtroppo la politica trova più semplice dire che ci sono degli esubri e non quello di dire che la politica è fallita perché lo voglio dire con molta franchezza l'alto calore è composto dai sindaci i sindaci della provincia di Avellino e parte di Benevento loro sono i soci di questo ente poi c'è un presidente con un consiglio di amministrazione questo presidente e il consiglio di amministrazione vengono votati dai sindaci l'alto calore giusto per entrare nell'idea di che stiamo parlando è un ente che oggi ha oltre 120 milioni di deficit di bilancio però ha anche circa 95 milioni di crediti allora prima di dire che l'alto calore è fallito perché la politica lo vuole portare a morire è semplice se ci sono circa 100 milioni 95 milioni di crediti e 120 milioni di deficit la prima cosa che fa un'azienda seria è recuperare i crediti e quindi vai a diminuire il deficit poi voglio dire ci sono delle cose che si possono fare io mi sono fatto un'idea personalmente la politica ha deciso che l'alto calore deve chiudere deve morire deve fallire perché deve arrivare il privato a gestire l'acqua e questa è una cosa gravissima e vergognosa perché significa far gestire da un'azienda privata ci sarà una gara europea attenzione quindi può avvenire anche un'azienda francese o tedesco di qualsiasi parte d'europa a gestire la nostra acqua allora sì che diventa un dramma noi abbiamo le sorgenti abbiamo l'acqua però la volontà politica ha voluto che non sia più un bene comune ma diventi un bene dove si può lucrare si possono fare i soldi cioè le aziende private possono guadagnare sulla nostra acqua è una cosa vergognosa per quanto mi riguarda e io qui sfido la politica ma cosa sta facendo la politica mentre l'alto calore sta morendo non sta facendo niente e allora mi confinco che la mia teoria diventerà pratica far fallire l'alto calore per far arrivare il privato chi beneficerà di questo sinceramente non lo so non aspetta a me sapere ma una cosa è certa per i cittadini sarà sempre peggio voce del popolo l'alto calore che vende l'acqua alla Puglia la chiariamo questa vicenda? ma questi sono accordi purtroppo storici antichi neanche ricordo quando sono stati fatti questi accordi tra l'alto calore e la regione Puglia fatto sta la regione Puglia paga l'acqua meno di quanto la pagano gli Irpini e i Sanniti questo è un dato certo la situazione nel Sannio com'è? c'è anche la razionalizzazione dell'acqua? lì c'è una doppia gestione da una parte sono comuni che fanno parte dell'alto calore altri fanno capo ad un'altra società che è la Gesesa anche lì hanno lo stesso problema della razionalizzazione dell'acqua almeno per la parte che riguarda l'alto calore ma il problema è vero che noi paghiamo l'acqua ma poi non abbiamo il servizio io credo che è veramente un paradosso cioè noi abbiamo le sorgenti abbiamo l'acqua in altre regioni che prendono l'acqua da noi non hanno il problema dell'acqua che viene a mancare noi che abbiamo siamo dire padrone forse esagerato ma noi che abbiamo l'acqua nel nostro territorio rischiamo di non avere l'acqua e non rischia è un fatto concreto che è successo quindi cosa dirà De Stefano? io De Stefano ho già detto e ribadirò che per quanto ci riguarda vogliamo un piano industriale serio di rilancio dell'alto calore io sono convinto che l'alto calore non è ancora fallito si può salvare se ognuno fa la propria parte si può salvare come noi abbiamo dato la disponibilità a rivedere la riorganizzazione interna del personale se la politica ci mette il suo noi possiamo salvare questo ente il prefetto nell'ultima regione che abbiamo tenuto io sono d'accordissimo sulla proposta del prefetto mi sembra una proposta di buon senso ha dato un mese di tempo al sindacato e all'alto calore ma all'alto calore per presentare un piano industriale credibile serio per salvare l'azienda per rivedere come ridistribuire il personale all'interno e soprattutto come mettere mano alle reti idriche e fare in modo che ci sia efficienza meno dispersione dell'acqua e quindi ci sia anche un abbassamento della bolletta perché se c'è meno dispersione ci sono più entrati e quindi significa automaticamente abbassare il prezzo dell'acqua insomma io credo che è una cosa così semplice e mi auguro e speri che in questo mese si possa arrivare a trovare un risultato una battaglia sociale appunto questa veramente sociale giovani disoccupati anziani che non arrivano a fine mese famiglie estremate da spese fisse per quanto tempo potrà reggere il nostro stato sociale non le pare che queste problematiche a livello nazionale non siano affrontate con il pugno e con la decisione giusta ma in verità vengono affrontate nel modo più più utile del momento i tempi quando si si batteva il pugno perché c'era dall'altra parte chi doveva corrispondere ormai questi tempi credo che sono andati sono un po' superati perché non abbiamo dall'altra parte né imprenditori che possono ancora in qualche modo elargire indennità di una certa consistenza perché la crisi ha colpito tutti quindi ha farciliato decine e decine di aziende e né tanto meno ci sono soldi da poter distribuire come avveniva nel passato perché c'erano quindi io credo che quei fondi che ci sono quei pochi fondi a disposizione mi hanno utilizzato nel modo migliore noi come sindacato portiamo a casa dei risultati importanti ricordo a me sesto quando si è insediato il presidente del consiglio all'epoca Matteo Renzi ha detto io non parlo quei sindacati beh questo era lo slogan lo spot ma puntualmente i suoi ministri si confrontavano col sindacato e mi hanno fatto accorti importanti sulle pensioni abbiamo in qualche modo limitato i danni dalla Jobs Act e tante altre oggi ci confrontiamo con un governo dove riusciamo in qualche modo a portare a casa dei risultati beh se penso alla vicenda delle pensioni l'inalizzamento dell'età pensionabile a 67 anni legati all'attesa di vita praticamente insomma siamo riusciti a convincere il governo voglio incrociare le dita proprio oggi c'è una riunione ancora in corso ci saranno altre dove ci sarà un accordo col governo che nella legge di bilancio rispetto alla vicenda delle pensioni saranno salvaguardate alcune categorie usuranti e questa è una conquista e per quanto mi riguarda quasi tutta c'è se lo voglio dire non vorrei apparire ma ecco sì noi ci abbiamo creduto ci sono categorie che vanno tenute fuori da questa aspettativa di vita fino ai 67 anni per andare in pensione settore dell'edilizia settore dell'agricoltura anche settore delle maestre d'asilo e chi si occupa di assistenza a cura delle persone e tanti altri settori sono 13 in tutto beh questa è una battaglia vinta da noi io mi auguro che il governo manda in gafete a quanto stabilito e diventi legge ecco sono importanti i risultati che si portano a caso come la di contribuzione per le aziende al sud che assumono i giovani anche qui importanti questo è frutto di un confronto con il governo perché noi siamo abituati noi della Cisola a confrontarci con i governi indipendentemente dai colori politici noi ci confrontiamo e quando arrivano i risultati onestamente protestare se il risultato non le piace la piazza non le piace no mi piace tantissimo la piazza quando serve però perché la piazza serve se dall'altra parte non trovi risposta ma se io trovo risposta più che dalla piazza io stendo tengo come dire a confrontarmi a tavola e portare i risultati a casa per i cittadini ma se i risultati non arrivano è chiaro che la piazza diventa inevitabile lo sciopero regionale e tutti quelli che sono gli strumenti in mano le organizzazioni sindacali e i cittadini senta ritorniamo in casa lei è segretario anche del contesto Sannita ci ha visto bene la Cisla ad unificare le due segreterie trova che il Sannio stia vivendo una stagione migliore rispetto all'Irpinia? noi quando abbiamo fatto questo accorpamento della Cisla Bellini e Benevenne nel 2013 l'avevamo fatto per ragione i nostri interni quindi razionalizzazione delle risorse mettere insieme due aree interne che è il Sannio e l'Irpinia per tante cose molto simili vicine per cultura insomma voglio dire abbiamo fatto un nostro ragionamento interno e abbiamo avuto ragione perché noi oggi abbiamo una Cisla e l'Irpinia Sannio che parla la stessa lingua che porta avanti le stesse proposte le stesse istanze abbiamo risparmiato tantissime risorse di natura finanziaria quindi abbiamo messo come dire abbiamo dato la miglior fase diciamo di rilancio possibile di un'azione sindacale legata fortemente alle aree interne e quindi la politica non lo ha fatto e questo mi dispiace perché all'epoca si parlava di accorpare le province sappiamo come è andata a finire poi la politica è rimasta immobile purtroppo purtroppo perché probabilmente le aree interne devono ragionare parlare la stessa lingua non solo dal punto di vista sindacale ma soprattutto dal punto di vista politico e istituzionale mettere insieme gli Irpini e i Sannini al di là del calcio che so che non corre buon sangue tra i tifosi dell'Avelino e del Benevenno ma al di là della battuta io credo che bisogna fare forza farsi forza e mettersi insieme perché in regione Campania soprattutto se gli Irpini e il Sannini parlano la stessa lingua è un fatto importante se noi rischiamo di essere continuamente marginate dalle aree costiere noi che siamo delle aree interne la vostra gestione ha portato ad un incremento del numero degli iscritti quali obiettivi avete raggiunto? il segretario Melchionna ha incassato questo elemento positivo oggi ma io credo che noi abbiamo fatto un buon lavoro un ottimo lavoro che ci è stato riconosciuto anche dai livelli regionali e nazionali della CISL siamo riusciti a mettere insieme non solo due realtà ma a potenziare le nostre attività sui territori oggi abbiamo i nostri servizi sono i primi in assoluto sia in termini di numero che di qualità e questo lo dicono non lo diciamo noi ma lo dicono gli uffici preposti a dare questo giudizio abbiamo aperto tantissime sedi nuovi sindacali abbiamo aumentato le nostre offerte di servizi che si danno ai lavoratori e ai cittadini voglio dire noi abbiamo ci sono 19 categorie nella CISL che rappresentano tutti i settori produttivi del pubblico e del privato poi ci sono le associazioni che si occupano dall'associazione dei consumatori a quelle che si occupano delle badande degli immigrati i giovani le case popolari insomma i servizi previdenziali come il patronato i servizi fiscali voglio dire dall'A alla Z un cittadino che viene presso una sede della CISL oggi trova tutto cioè veramente trova tutto trova persone che dalla mattina alla sera con tanta serietà e onestà si mettano a disposizione e voglio dire io credo che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e non ultimo la CISL di Spiniasannio è quella che ha in termini di rappresentanza è la più rappresentativa rispetto alle altre organizzazioni e questo ci ha consentito di sederci nelle varie nei vari enti perché noi siccome la regione spesso la regione campania non solo la regione campania ma anche a livello ministeriale poter far parte di un ente di un consiglio di amministrazione e soprattutto in base alla rappresentatività la CISL siccome è la più rappresentativa dobbiamo chiudere il tesseramento quest'anno ma abbiamo intorno ai 67-68 mila iscritti tra quelli e bene bene essendo la più rappresentativa noi abbiamo la possibilità di portare la CISL nei tavoli di confronto dove si prendono delle decisioni a livello istituzionale faccio un esempio la Camera di Commercio l'Inde 70A la CISL è dentro perché è la più rappresentativa io credo che questo come dire è il miglior risultato che potevamo avere grazie agli iscritti grazie ai cittadini che credono in noi e sono tantissimi ripeto circa 68 mila senza di loro noi non potevamo fare questo siamo la prima organizzazione non perché siamo i più belli ma perché circa 68 mila persone hanno scelto di riconfermare la testa ogni anno e di essere iscritti a questa organizzazione e io vi ringrazio veramente tutti uno per uno senta segretario è giusto o anacronistico parlare di differenze ideologiche tra un sindacato e l'altro ad oggi sono nati perché c'erano motivazioni politiche e sociali differenti cento anni fa e più cioè che cosa differenzia la CISL dalla CGL ma ci sono sicuramente delle differenze noi abbiamo come CISL dei valori e una cultura diversa dagli altri noi abbiamo per esempio un nostro codice etico e comportamentale all'interno oltre allo statuto che ce l'hanno tutti ma noi abbiamo un codice nostro di comportamento un codice etico che è molto molto rigido noi siamo l'unica organizzazione sindacale che pubblica sul sito della CISL i redditi del sottoscritto e di tutti i dirigenti della CISL e i bilanci dell'organizzazione quindi voglio dire abbiamo una cultura che è quella come dire di non avere nessun timore a dire quelli che siamo veramente insomma al di là la trasparenza la trasparenza per noi come dire è alla base della nostra azione della nostra attività quotidiana e quindi questa cosa è molto apprezzata dei cittadini perché per sapere quanto guadagna un dirigente della CISL non c'è bisogno che si va a rubare il modello 7-3 si va sul sito e si trova in maniera chiara si vede qual è il bilancio dell'organizzazione insomma sono cose che per quanto ci riguarda sono importanti e poi siamo un sindacato come CISL molto aperto al compronto e all'unità sindacale cosa che spesso non riscontriamo in altre organizzazioni sindacali e questo è anche un fatto di cultura più che di ideologie è di cultura e di valori ricercare sempre l'unità per risolvere le problematiche senta Mario Malchion ha mai pensato di mettere a frutto le sue qualità professionali umane e un impegno attivo in politica? Sinceramente non ci ho mai pensato perché ho scelto di fare sindacalista tanti anni fa e sono contento di aver fatto questa scelta anche perché il sindacato rappresenta gli interessi in maniera orizzontale dei cittadini e la politica purtroppo la rappresenta in maniera più verticale quindi io credo che sono contento di fare questo mestiere e lo vorrò fare fin quando l'organizzazione riterrà che lo posso fare poi quando sarà farò le mie valutazioni Un'ultima domanda è una scelta definitiva ci penserà? Nella vita niente è definitivo tutto è possibile quindi come dire quanto sarà il momento farò le mie decisioni le mie valutazioni Segretario io la ringrazio per essere intervenuto nella trasmissione politica e sviluppo perché ha dato uno spaccato soprattutto sulla questione interna che è finita ovviamente sui riflettori della politica dei media nazionali e poi ovviamente anche sullo sviluppo in Irpinia e nel Sannio che sono light motive ovviamente del successo per tante persone grazie grazie a lei grazie a tutti gli spettatori buona serata www.canale58.com la tv sul web notizie, video, rubriche diretta streaming scarica l'app di Canale58 per tablet, smartphone, iphone grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti